Siamo qui a ricordare degli amici che non ci sono più e purtroppo ieri è arrivata la notizia, almeno molto dolorosa per me, Michele, abbiamo fatto dei concerti in America e purtroppo una leucemia fulminante nell'arco di un mese ha spazzato via un nostro amico compositore. Vorrei dedicare questa pagina d'album, lui si chiamava Orlando Legnami. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.